Bella a tutti ragazzi, sono Aron e siamo nuovamente qui su Lara Croft, i Guardiani della Luce E quindi continuiamo da dove ci eravamo lasciati, eravamo rimasti qui Quindi adesso noi vediamo un po' se riusciamo perfetto Abbiamo piazzato le nostre care lance Adesso dovremmo fare questo Eccolo qua con la bomba, facciamo saltare tutto Ok, pigliamo Ascoltiamo, ascoltiamo Ok, manufatti Allora, aspettate un attimo Ah E qua Ah no, ok Ah, ha fatto uno, ha aggiunto arma più uno e... Ok, ok Allora, pigliamo qui, pigliamo qui B Teriamo indietro Perfetto, vediamo un po', si, si apre la porta Quindi noi molto velocemente Andiamo avanti Ok Questo è il falore, copriamo un po' di vita Andiamo a vedere qui che cosa c'è Qua non c'è un bel niente Pigliamo intanto tutti i diamanti che possiamo prendere Eccoci qua Pigliamoli tutti, pigliamoli tutti Via Vediamo se di qua c'è qualcos'altro No, allora facciamo una cosa prima Prima saliamo le scale Allora, primi B per agganciarla Usarele per scagliarle contro i nemici Va... no Aspettate un attimo Facciamo così prima Allora Oh, 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 oh Ah, contro i nemici, contro i nemici Ok, ho capito, ho capito Ah, schiva Via dentro, via dentro Vai, va che bello Fantastico Ok Quindi lei mi ha detto così e lascia Ok, vabbè Chi se ne fotte mi sto incartando Ok Adesso Ah, ho capito, ho capito Mi sa che ci servono le palle Detto Molto Molto Brutalmente Allora Buttiamola giù Ok Anche questa Via di qua Ok Trasportiamole Su qua Perfetto E ritrasportiamo Quest'altra Su qua Vediamo che ce la fai Perfetto Andiamo avanti Mamma mia Quanto va veloce sulle scale 200 all'ora Guarda Guarda Velocissima Allora Vediamo Sida ricompresa Salta sui Sui sette vasi Ragni senza toccare terra Vediamo se ce la facciamo Ecco va Fa mok Eh mannaggia All'ultimo Ok Saltiamo qua E saltiamo di Oh Ok Allora Dove dobbiamo andare Mi sa di qua Quindi mi sa Ah ecco Corsa sul muro Quando si è agganciato un anello Dappiglio Salta verso muro Per rimanere appeso Allora Dov'è? Salta verso muro E muovi Per uscire Salta dall'altra parte Perfetto Ok Vediamo un pochettino Sequenza scriptata Un po' di fuoco E' uno scherzo Vero? Eh no Eh vabbè Dai Aspetta Ti sentiamo il tempo Di incisione In mezzo di cento secondi E come cazzo faccio qua? Ah ho capito Capito Corri 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 Ah Dai 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 Oddio Eh vaffan bene va Allora Ok ci risiamo Ci riproviamo Allora Pidiamo la palla Corriamo Corriamo Aiuto Corri 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 Ok 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 Corriamo di qua Corriamo di qua Perfetto Ok ce l'abbiamo fatta Si è aperta questa porta Dovremmo riuscire a saltare Ecco lo sapevo Ah ce l'abbiamo fatta salvarci però Ok Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua non c'è niente Aspettate un attimo che piglio questo E andiamo avanti Non so dove l'ho buttata però Boh Allora Aia Aia Ok Quello l'ho buttato via Pidiamo questo Dobbiamo rompere pure questo Aia di nuovo Eh però distruggiti Che due palle Ok Allora Uno lo mettiamo qui Poi noi saliamo E ne mettiamo un altro Là Vediamo se funziona Così No no Aspettate No mi sa che non funziona Allora Proviamo a vedere Ah forse Ah ma va Fambene va Ok Scaliamo Come solo noi sappiamo fare Ora Spara O fa esplodere Bombe su questo interruttore Per aprire o chiudere porte Magica Nell'ambiente E allora Pam Apriamo le porte Ci pigliamo tutto questo Bendidio E E qua però Eh Aspetta Ah possiamo sparare Quindi Aspettate un attimo Dobbiamo fare così Vedere Esattamente Oddio Mi tornerai utile Ah 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 Eh Non trattenere il fiato Allora farò un vestito Con quella bella e cantina Bravo 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 Oh oh Sta arrivando qualcuno ragazzi Eh beh Per la miseria Mi sa che è una Boss battle ragazzi Boss battle Oh mio dio Porca vacca Eh leva Levati Levati No Cambiarma Come si fa a cambiare Madonna santa Mi so Ok Ci siamo Bella Quello è fatto Quello è fatto Quello è fatto Passate sulle Bombe Ok ok Oh mio dio Matte Sono quasi morto Sono quasi morto Non dobbiamo morire Non dobbiamo Non dobbiamo morire Oddio Schiva tutto Schiva tutto Ok ok Oddio Mamma mia Al limite Siamo al limite Siamo al limite Siamo al limite Della via Eh due Eee E che cos'è Va Vai salite sulle bombe Eeeh Ci siamo Ci siamo Tre Qua Quanti ce n'è Oh Eh noi Piazziamo di bombe Intanto spariamo Ok Siamo Mamma mia Oh 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 Ok lo stiamo Sbrindellando Stiamo continuando a sbrindellarlo Però non muore Ok è morto Ok ok Ci abbiamo fatta Allora Tombe sfida Le stanze contrassegnate Dei uccidiosi Sono le tombe sfide Eeeh Si tratta di tombe facoltative Contrano i soldi radii Sì le difficili Non so se Vediamo un po' Allora aspettate Vabbè comunque Vediamo un pochettino Siamo a 10 minuti Io direi di Stoppare qui ragazzi Anche per questa Diciamo Secondo Episodio Tanto vediamo un po' Cosa c'è qua dentro Anche per questo Secondo episodio di tutto Ci vediamo al prossimo Gameplay su questo gioco Bella Daron